La novità c'è, ma la novità è una cosa che si stende su tutto un secolo. La novità non è fatta di avvenimenti, di fatti soltanto. La novità è una creazione collettiva. Oltre 70 opere che raccontano il movimento impressionista e i suoi stretti legami con la Normandia. Sull'evento allestito al Museo Revoltella fino al 5 giugno, il Comune di Trieste punta molto in chiave turistica, come ha raccontato alla presentazione il Sindaco di Piazza. Adesso ripartiamo alla grande. Ieri una grande iniziativa a Miramare, oggi una grande iniziativa con questa mostra di Monet. Sappiamo quali numeri può fare questa città. Quest'anno arriveranno 440.000 turisti con le navi da crociera, 750.000 nel 2023, per cui avremo numeri e questi numeri si chiamano semplicemente economia. Sono previste varie iniziative promozionali per i turisti, ha spiegato Guerino Lanci di Federalberghi, per un'esposizione che ha anche il compito di rendere concreto tutto il lavoro per valorizzare il Museo Revoltella. Una mostra importante perché è anche un investimento sul Museo Revoltella. Forse non tutti lo conoscono, ma il Museo Revoltella, lo dice Vittorio Sgalbi, non lo dico io, è uno dei più importanti musei di arte moderna italiana e non solo, forse europea. E quindi è anche necessità di valorizzare questo bene che abbiamo. Per cui la mostra di Monet si contestualizza in quello che è stata la riqualificazione di un'area, che è la sala Scarpa Cicca a mille metri quadrati. La mostra Monet e gli impressionisti in Normandia, prodotta da Artemisia, è curata da Lentapie e sostenuta da generali e altri sponsor, è incentrata soprattutto sul patrimonio della collezione Pantre Normandie, tra le più rappresentative del periodo, affiancata da prestiti dal Museo Marmottin Monet di Parigi. Si compone di cinque sezioni ed è arricchita da esperienze multimediali di realtà aumentata. E se c'è Monet che conosciamo bene, c'è perché c'è Boudin, se c'è Boudin c'è perché c'è Courbet, perché c'è Delacroix, perché ci sono tanti altri pittori che sono meno conosciuti. E il senso di questa collezione che abbiamo portato qui era per raccontare questa storia un po' parallela alla storia ufficiale.